Io mi auguro che, dato che il film non è nato per avere una vocazione né scandalistica né di provocazione, mi auguro che non ci siano le polemiche. Mi rendo conto, però non sono così ingenuo da credere che questo avverrà, lo so che non avverrà, però mi piacerebbe che... Dato che è un film che cerca di mettere anche in evidenza i guasti del terreno della politica, mi sembra che... Spero che col film non si ripeta un terreno, ecco, perché si impari una lezione da un film che lo mette secondo me molto bene in chiaro, per questo c'è un'esistenza con tutti gli uomini della corrente, dove si parla anche di cose molto specifiche che magari hanno apparentemente poco interesse da tutti, ma era tutto finalizzato a mettere in evidenza come, almeno secondo me per molti anni, anche oggi, la politica ha una autoreferenzialità esasperata. E mezzo alla autoreferenzialità si tolga abbastanza nel mondo della nuova, anche nel mondo della politica, diventa un po' più grave, perché è tutto tempo tolto al vero compito per cui è deburato. Quindi mi auguro che non ci siano polemiche che distranno da quello che poi mi interessa, insomma, se si dà tutto il film in quanto il film, perché sicuramente di argomento politico, insomma, se dovessi scegliere come passione tra cinema e politica, scelgo il cinema, quindi mi fa più piacere se si accendessero polemiche sul film, anche nei confronti di Polo, a cui non piace il film, quello mi fa più piacere controbattere in questo senso, e non su cose di metropolitica. però trovo che sono già cominciate, anche con dietrologie di bassa lega. Cioè? Scusa? Cosa ti riferisci? Guarda, lo avete molto velocemente, però già ti dice che questo è un film... perdono, mi sapeva molto generico, perché non mi ricordo i fatti, però, insomma, si insinua a una presa di posizione in una maniera o nell'altra, c'è chi dice che è troppo morbido, c'è chi dice che invece è troppo duro. secondo me è abbastanza... è dentro una città seristica che si allontana abbastanza dalla realtà, però mi sembra che il film sia abbastanza verosimile. Vabbè, nel quale senso?